Questo video è sponsorizzato da JLC PCB, un'azienda specializzata nella produzione di circuiti stampati che con tariffe bassissime permette di ricevere PCB di ottima qualità in pochi giorni. Potrete ordinare al costo di soli 2 dollari 10 prototipi con un tempo di produzione di soli 2 giorni. Ciao a tutti e benvenuti in laboratorio. Come sempre prima di iniziare un saluto a un nuovo patron sostenitore del canale, ciao a Daniele858, grazie per il tuo supporto sempre molto apprestato e benvenuto nella nostra comunità di elettronici entusiasti. Veniamo quindi al video di questa sera, serata riparazione. Infatti ricevo da Sergio P. della provincia di Monza questo UPS, spedito dal corriere UPS, che dà qualche problema. Sergio ci dice che dopo qualche mese di onorato servizio, le batterie dal 100% si scaricano molto velocemente e quindi giustamente le ha sostituite. Ma anche con le batterie nuove questo fenomeno rimane, per cui sospettiamo un problema all'UPS. Come sempre tentiamo la riparazione, cogliamo il toratesto per studiare questo schema e quindi buona visione. Unboxing senza scene di violenza con taglierini o coltelli. Oh mamma mia, è un bel torello, quindi adesso dovrò cercare di tirarlo fuori con tutte e due le mani. Insieme all'UPS c'è questa lettera che leggiamo per le considerazioni che fa Sergio. Ho pensato anche io che ci fosse un'anomalia sul lato inverter, che genera un assorbimento anomalo. Ma se così fosse, subito dopo lo switch verso la rete elettrica, dovrebbe effettivamente tornare a farmi vedere il livello corretto di carica delle batterie, 100% o almeno 80%, cosa che non avviene. Sembra ogni volta che ricomincia a caricare delle batterie scariche, ma io so che non sono scariche e la tensione lo dimostra, 27,7 volt, sia prima che dopo il self-test. Io non so in che modo calcola il livello di carica residua, se fa una sorta di statistica o se si basa solo sulla tensione istantanea letta sulle batterie. Comunque collegandomi con il suo software, ho potuto verificare che la tensione letta dell'elettronica interna corrisponde con quella reale delle batterie, misurata con un DVM appena calibrato. Quindi non dovrebbero esserci problemi di misura-tensione. Prima di spedirtelo rimonto le batterie nuove, così siamo più sicuri, anche se erano buone anche le batterie vecchie, ma su quelle nuove ho fatto un rudimentale test di capacità e sono più che sicuro. Scrivo gli altri commenti e le risposte sotto nel corpo della tua mail. Grazie, ciao Pierre, a presto. Si tratta di un modello APC Smart UPS 750XL, che mi fa pensare a 750W e questo giustifica anche il notevole peso, perché sono un bel po' di chili. Direi un oggetto performante, qui abbiamo a pannello l'indicazione delle varie modalità di funzionamento e anomalie. Qua direi che abbiamo una scala che ci indica la carica della batteria e qua dovrebbe essere la potenza erogata in uscita. Sul coperchio superiore abbiamo una piccola etichetta con le indicazioni principali per la messa in servizio e il funzionamento e il significato dell'interfaccia utente. Nella didascalia troviamo il significato della barra a sinistra, che appunto è il carico che è connesso all'UPS, bottoni di accensione e bottoni di spegnimento e il significato delle icone qui. Quindi abbiamo quando la freccia va in giù, abbiamo che l'UPS sta regolando una tensione alternata alta, qui sta filtrando e qui una tensione bassa. Questa icona è per il sovraccarico, questa è per indicare che la batteria è on e quest'altra invece replace battery, quindi qualcosa che non va bene e probabilmente andremo incontro a questo tipo di icona. Poi sulla destra abbiamo anche questa barra che ci dice quant'è carica la batteria, ecco il pannello posteriore, abbiamo interfaccia per connessione con software che gira su pc, led, qui abbiamo tutte le utenze, l'uscita 220-240 volt 50-60 hertz, il modello 750 sono 750 volt ampere, due punti, 600 watt con 3.4 ampere massimi prelevabili da queste utenze. Qui abbiamo il connettore d'ingresso per la 230 e sotto questo nastro direi che c'è il connettore per la batteria. Da questa parte invece abbiamo un altro connettore che è nastrato, leggo, da utilizzare con 24 volt, ok per ora lo lasciamo perdere, infine un bottoncino con overload protector, quindi qualcosa da spingere in caso di protezione. Notiamo infine un'altra porta usb, effettuiamo un primo test, spingo il bottone di accensione test, non accade nulla e questo forse è normale perché non so lo stato della connessione delle batterie, quindi adesso andiamo ad aprire. Scoperchiamo, vediamo come si presenta il nostro oggetto di lato, una buona parte del peso è data da questo trasformatore che alimenta l'uscita, riconosciamo i fili che escono da qui e andranno verso il pannello utenze. Qui direi che c'è un modulo di interfaccia digitale, infatti abbiamo il cavetto flat che va a questa scheda, che sembra essere la scheda di controllo, sulla quale riconosciamo anche questo grosso elettrolitico che viene in giù e quindi ospiterà anche i moduli di potenza probabilmente lì dietro. Il vano batterie direi che si trova da quest'altra parte e vedo che c'è un cavetto flat qui sulla parte alta. Sull'altro lato abbiamo questa ventola e poi noto che la nostra scheda di controllo, qua sul lato, ha ancora i morsi di topo, quindi proveniente da una pannellizzazione di circuito stampato direi. Infatti vedete che ci sono questi buchini che servono per separare una scheda dall'altra. Per accedere all'interno dell'oggetto direi quindi di svitare queste due viti e di ribaltare questa scheda di controllo. Possiamo rimuovere questo pannello di protezione posto sul lato saldature. Ci rimane da togliere queste tre viti e direi che dopo questa scheda si può spostare. Prima di fare qualsiasi movimento però voglio collegare la 230 volt in ingresso e vedere se agendo sul pannello frontale accade qualcosa. Fornisco la 230 volt. Qui non cambia nulla. Proviamo a spingere il bottone di on. Nessun segno di vita. In realtà quando fornisco la tensione sento un piccolo ronzio. Non so se lo sentite ma questa è la 50 hertz. Quando si opera con queste apparecchiature sempre massima attenzione perché sono comunque collegate alla rete elettrica. In questo caso utilizzerò dei guanti isolanti per andare a maneggiare la scheda e non rischiare di prendere delle scosse anche perché sicuramente avremo dei condensatori carichi. Ora posso effettuare il collegamento della batteria quindi andando a richiudere questo connettore a lama qui dentro. Spingiamo sul bottone di on. Ecco adesso con la batteria connessa vedete che ha dato un piccolo segno di vita. Si è sentito un clac. Sembra che stia girando anche la ventola. Però non vedo indicazioni. Si sente il tic. Probabilmente a indicare che la batteria è completamente morta. Spegniamo. Niente. Si sente solo un bip ma di fatto non abbiamo nessuna indicazione luminosa. Con le batterie collegate diamola a 230 volt. Si è visto un blink veloce e poi sembra che stia funzionando ma i led sono sempre spenti. Proviamo ad accendere in questa situazione. Ok. Quindi qua il livello di batteria è totale e abbiamo il lampeggio sulla onda sinusoidale. Ecco. Questa dovrebbe essere l'anomalia. Infatti vedete che il livello di batteria è crollato e si è accesa questa spia arancione. Ed è partita anche la ventola. Questa è la spia di sovraccarico. Quindi si è accesa per un momento. Adesso c'è questo lampeggio che mi verrebbe da dire che potrebbe essere l'indicazione della ricarica delle batterie. ripetiamo per vedere se la cosa si ripete esattamente uguale. Quindi accensione. Batteria piena. Lampeggio. Adesso dovrebbe partire il test. Probabilmente. forse lo dobbiamo forzare noi. Anzi no è partito. Overload. Batteria scarica e anomalia. Mi sono collegato sull'uscita ed in effetti abbiamo la presenza della 228 volt. Livello di batteria è però completamente crollato. Proviamo a riforzare il test. Overload. Fate la tensione che comunque è fornita. Quindi fornisce sempre tensione. Quindi in modo coerente con questa indicazione. Però abbiamo sempre questa indicazione di batteria bassa e overload. Vediamo cosa accade se tolgo la 230 in ingresso. La spegniamo. Ecco. Ovviamente è andato in overload perché la batteria non riesce a fornire. Anche se la tensione viene sostenuta. Sovraccarico e probabilmente fra un po' si spegnerà. È qualche minuto che è rimasto in questa situazione. Lo spegniamo noi. Vediamo se riparte senza rete elettrica. C'è stato un momento di rosso. Sì. Quindi con una minima ricarica di batterie ritorniamo in questa situazione. Come capita abbastanza spesso ci troviamo in una situazione in cui non abbiamo schema elettrico. L'unico documento che si trova è questo manuale di funzionamento. La marca è un APC di Schneider Electric. Gruppi di continuità Smart UPS. Noi abbiamo il modello 750V. Questo documento è utile semmai per vedere come si accede al vano batterie qua sul frontale. Quindi il frontalino si toglie dalla parte davanti semplicemente tirandolo e si accede alle batterie. Per il resto sono tutte indicazioni per l'utente su come collegarlo come utilizzarlo. Quindi il nostro scopo è poco utile. In effetti tirando con un po' di decisione si toglie il pannello frontale e si accede alla parte frontale. Quindi andando a rimuovere anche queste viti potremo avere la visione sul vano batterie. Abbiamo accesso alla parte frontale spingendo a slitta. Ecco che salta fuori il pacco batterie. Qui sul lato abbiamo un'indicazione di questo pacco batterie al piombo con indicazione delle tensioni su questo standby use e cyclic use. Da 13,5V a 13,8V a 14,7V a 14,8V. Corrente iniziale 5,4A massimi. Rapida misura. Siccome abbiamo due celle in serie vedete che la tensione misurata è 26,18V. quindi una tensione direi quasi nominale per questo tipo di batteria. Voglio avere accesso a questa scheda in modo da averla libera per cui stacco i connettori che la legano al resto del UPS. Quindi questo connettorino flat e poi ho già visto due faston sotto da slacciare. Da quest'altro lato avevamo una vite sul frontale da togliere e poi abbiamo questo connettorino per la ventola da staccare. Qui sul lato posteriore invece abbiamo dei connettori matten lock che vanno verso il trasformatore di uscita quindi anche questi semplicemente li andiamo a togliere in modo da liberare la scheda. Non è ancora finita abbiamo un altro connettore matten lock qua da staccare. Dobbiamo anche svitare questi capocorda che sono attaccati direttamente a queste che sembrano essere delle alette di raffreddamento. Conviene sempre documentare le fasi di smontaggio in che ordine sono state fatte in modo che poi quando si deve procedere all'assemblaggio si percorre in ordine inverso senza dubbi specialmente su posizioni che potrebbero essere scambiate quindi prendersi nota. Nel mio caso ho la comodità che comunque dovendo fare un video rimane tutto registrato. Questo è l'unico modo che ho trovato per poter tenere la scheda in questa posizione senza perdere i collegamenti con il resto dell'apparecchiatura. Infatti i fili rossi e nero che provengono dal vano batterie sono saldati direttamente sul circuito stampato non hanno un connettore e siccome c'è poca distanza in questo modo riesco a tenere la scheda orizzontale altrimenti altre posizioni non sono possibili proprio perché i fili sono veramente tirati. Osservando la scheda possiamo fare queste considerazioni. La tensione di batteria quindi la 27 volt arriva con il cavo rosso e nero di adeguata sezione incontra subito un condensatore di livellamento direi che è abbinato a quella batteria e poi abbiamo questi semiconduttori disposti su questi dissipatori che sostanzialmente sono un inverter. Ce n'è un certo numero perché saranno almeno 8-9 ne conto e quindi dovremo capire bene la topologia di questo inverter come è fatta. Da questa parte qui la parte più digitale che si interfaccia con il pannello frontale e qua abbiamo il cavo di collegamento. Riconosciamo il cicalino e tutta tecnologia SMD. Dalla parte di qua invece andiamo verso l'uscita quindi batteria di relais vedete che ce ne sono un bel po' questo ci permette di fare l'attacca stacca sulle uscite e la potenza. Poi riconosciamo questo filtro IMI verso la 230 e dopo di che con questi connettori Matt and Lock si va a prelevare l'uscita alternata a 50 Hz e la si porta all'interno del nostro UPS dove c'è un trasformatore decisamente importante e poi avremo un pannello di distribuzione delle utenze a 230. Ora voglio ricostruire lo schema di principio, schema elettrico di quest'UPS per cui prendo delle misure e con il multimetro faccio dei test di continuità e vado a vedere come sono collegati i connettori Matt and Lock, bianco nero, giallo bianco, vado a vedere gli avvolgimenti del trasformatore, che resistenza hanno in modo da poterlo ricostruire e vado a leggere i valori dei componenti così arriverò finalmente a uno schema. Chema blocchi che ho ricostruito potrebbe contenere delle parti poi da modificare che vedremo magari con un'analisi più di dettaglio. In linea di principio però abbiamo un ingresso a 230 volt che arriva su uno stadio di conversione a cdc quindi viene convertita in una tensione continua più bassa tale da poter ricaricare la batteria a 27 volt costituita da due celle. Dalla batteria a 27 volt abbiamo poi un convertitore dcac che di base è un inverter e quindi ricostruisce partendo dalla bassa tensione una tensione alternata a 50 hertz di basso valore. Dopodiché abbiamo un trasformatore di uscita il quale si interfaccia con una batteria di relè e a seconda della logica che è in atto viene prelevato un'uscita del secondario di questo trasformatore e viene mandata fuori la 230 volt a c. Nel caso che sia presente la 230 volt in realtà questa viene portata allo stadio RR che poi alimenta questo trasformatore che viene usato come autotrasformatore in questo caso lo vedremo dopo e si porta fuori l'uscita. Qualora venga a mancare l'ingresso ecco che la batteria provvede alla generazione dell'energia necessaria da trasformare in 230 volt. Ho ricostruito lo schema un pochino più di dettaglio partendo dalle due batterie da 13 volte e mezzo queste sono collegate in serie sul positivo abbiamo un fusibile di svariate decine di ampere sul negativo abbiamo quello spinotto che abbiamo visto prima sul pannello posteriore se vi ricordate questo dà continuità alle batterie rispetto alla parte inverter. Poi abbiamo un condensatore elettrolitico del valore di 2700 microfarad 40 volt e infine il ponte ad h dell'inverter realizzato con ogni elemento costituito dal parallelo di due power mosfet del tipo power trench e sono dei p140 nf 55 dell'ast che portano 55 volt di vds 80 ampere di corrente di corrente di drain e una rds on inferiore a 8 milliohm. Poi abbiamo sul carico del nostro inverter il primario del trasformatore grosso a lamierino che lavora a 50 hertz. Se vi ricordate avevamo due capicorda collegate direttamente alle alette dove sono alloggiati questi power mosfet che vengono avvitati proprio per prelevare l'uscita dell'inverter. Questo trasformatore poi si compone di un secondario a quattro prese con i colori bianco nero giallo blu che svolge la funzione di trasformatore elevatore qualora venga utilizzato l'inverter. Questa batteria di relè va infatti a selezionare la presa opportuna per regolare la tensione a un valore di 230 volt rms sinusoidali infatti questo è un'onda pura. Se per caso la tensione di batteria si abbassa o per qualche motivo la tensione qua al primario cala viene selezionata una presa diversa per far sì di riportare la tensione sempre a 230 volt. La cosa bella è che questo trasformatore di uscita quando non funziona l'inverter e quindi la batteria ma quando è presente la rete funziona da autotrasformatore cioè la tensione a 230 volt in ingresso viene portata sempre a questa batteria di relè che va a selezionare la presa giusta in modo che se la tensione di rete in ingresso è bassa viene alzata a 230 viceversa se alta viene abbassata. Infatti col multimetro ho misurato la resistenza di questi avvolgimenti e abbiamo circa 2 ohm e mezzo fra gli estremi e invece una variazione di 100-200 milliohm fra le spine intermedie. Questo consente una buona regolazione del trasformatore di uscita. Nello schema è anche presente un termostato realizzato in package TO220 che è montato sulla stessa aletta di dissipazione del nostro grosso inverter quindi è nel nostro caso un oggetto dalla Airpax 67L110 significa che interviene a 110 gradi quindi a 110 gradi lui apre il contatto fra i suoi due terminali e permette così di staccare l'uscita. Diamo uno sguardo più da vicino alla realizzazione in particolare dell'inverter che è il vero cuore di potenza. Vedete che su ogni aletta abbiamo i due mosfet che sono presenti in ogni aletta si vedono qua per un totale di 8 mosfet il nono componente è il famoso termostato e quindi va a sentire la temperatura in particolare di questo di questa aletta. Qui abbiamo il grosso elettrolitico che è in ingresso all'inverter quindi sulla parte DC e qua invece abbiamo la batteria di relais che concorre alla commutazione dell'uscita del grosso trasformatore rispetto alle uscite dell'inverter. A livello di connettori quindi ho identificato questo che è l'ingresso a 230 che arriva su scheda e da qui questa 230 va subito su questo filtro IMI quindi essendo un'apparecchiatura che viene collegata alla rete elettrica per rispettare le normative avete la presenza comunque dei condensatori in classe di sicurezza XY e la bobina di modo comune. Il primario del trasformatore è prelevato tramite questi due capi corda che si attaccano alle alette come abbiamo visto prima quando li abbiamo smontati. Poi notiamo questo connettore un matten lock con questi fili bianco e giallo in parallelo che viene innestato a scheda e queste sono le otto uscite della presa ISI quindi in uscita dai relais in base al tipo di ingresso che viene selezionato si manda fuori la 230 volt con questo connettore. Riconosciamo poi il secondario del trasformatore con questi quattro fili che provengono appunto dalla parte interna e connettore matten lock sempre a bordo scheda. Come dicevamo qua abbiamo agli estremi la tensione 230 volt che andrà in ingresso ai relais e in base al tipo di servizio verrà selezionato una presa. Quindi questo trasformatore può funzionare sia da trasformatore ma anche da autotrasformatore quando non è in funzione la batteria ma l'ingresso a 230 entra direttamente. Il trasformatore lo intravediamo da qui sopra e deve sopportare una potenza di 750 volt e quindi vedete è bello ingombrante e pesante. Sopra l'aletta va a insistere questa ventola che facilita l'estrazione del calore. Qua in ingresso si notano i fili rosso e nero che provengono dal vano batterie e poi vediamo che c'è una serigrafia per un altro condensatore probabilmente da utilizzare per il taglio di potenza superiore da 1 kilowatt. Facciamo una prima semplice misura per vedere che cosa vede la batteria quando è collegata alla nostra scheda. Quindi col multimetro in funzione ohmetro andiamo a vedere cosa si vede qua si vede un mega ohm però tenete presente che questa misura è viziata dalla presenza di una tensione. Se infatti vado in continuo vedrete che l'elettrolitico è carico. Infatti vedete abbiamo 2 volt. Come sapete tutti gli elettrolitici anche se si provano a scaricare completamente hanno una piccola tensione fantasma che poi viene rigenerata specialmente per gli elettrolitici di così grande capacità. Quindi non è una misura di resistenza attendibile. Ora per indagare il problema abbiamo necessità di fare delle misure e quindi ricollego la scheda in questa posizione con il resto dell'ups utilizzando delle prolunghe. Quindi ad esempio i due fili del trasformatore del primario bianco e nero li porto con dei fili a capicorda qua nelle posizioni originali. Per quello che riguarda i matten lock questo cavetto arriva questo cavetto arriva quest'altro invece è corto. Allora mi procuro un matten lock cannibalizzato da altro cavetto e ora mi manca la parte di qua. Andiamo a vedere dove trovare un connettore matten lock per giuntare il cavo della 220. Cerco nella rumera se trovo qualcosa di compatibile. Questo mi ricorda ancora una volta che è sempre molto importante conservare vecchi connettori di riparazioni effettuate o oggetti che invece di essere buttati via si possono separare nelle loro parti originali perché possono tornare sempre utili. Ho trovato un connettore matten lock e siccome non ho l'estrattore con seghetto ad arco e un po' di forza sono riuscito a estrarre il contatto per creare il mio cavetto. Ho collegato quindi anche la 220 di ingresso. La scheda è molto vicina alla carcassa metallica e sotto ovviamente ho isolato tutto il lato saldature con un po' di isolante in modo che siamo sicuri che non andiamo a creare dei guai visto che abbiamo dei vincoli di distanza e siamo obbligati a tenere la scheda praticamente adiacente al contenitore metallico. In questa situazione cabriolet senza batterie fornisco la 220 in ingresso. Vediamo cosa accade. Ok proviamo a spingere sul bottone di accensione probabilmente il sistema sente l'assenza delle batterie e quindi inibisce qualsiasi tipo di operazione. quindi devo rivedere il mio piano originale e collegare le batterie per vedere se in questa modalità smontata riparte e ripresenta l'anomalia che abbiamo visto prima. Ho ricollegato il pacco batterie, ho inserito il connettore di abilitazione del negativo in modo che così ci sia continuità e quando l'ho fatto ho sentito un piccolo rumore e secondo me è la carica del condensatore. Poi ho sollevato il pannello in modo che così sarà facile spingere i bottoni. Forniamo la 230. Ecco stavolta si è sentito il click quindi probabilmente è un relè che ha sentito la presenza della batteria. In questa situazione andiamo a spingere on ok lampeggio lampeggio tutto fermo però ecco si è sentita una bella botta sul magnetico avete sentito il rumore di magnetizzazione del magnetico quindi secondo me è come se ci fosse una sorta di saturazione del trasformatore perché si è sentita proprio una botta di magnetizzante e poi è andato in anomalia come prima. Quindi direi che il sistema in questo momento è funzionante come quando era chiuso ma abbia la possibilità di accedere alla scheda. La prima cosa che voglio osservare è la continua per cui mi procuro dei fili molto sottili che andrò a infilare nei connettori per poter monitorare la tensione. Ho infilato questi due fili molto sottili a contatto con le due lamelle. Ho ricollegato i connettori misura della batteria 26.27 inseriamo la lamella posteriore per dare il negativo e quindi collegare le batterie al nostro sistema. Ok ovviamente qua sul multimetro non si apprezza nulla. Adesso però abbiamo i fili per poter fare le nostre misure. Una nota per la sicurezza dell'operatore. L'oscilloscopio che abbiamo piazzato sulla batteria deve essere opportunamente isolato. Dobbiamo essere sicuri che questi due punti non vengano per nessun motivo in contatto. Ricordiamoci infatti che abbiamo un mucchio di energia fornita dalle batterie. Quindi se entrassero in contatto se ne vedrebbero delle belle. Teniamo sott'occhio con l'oscilloscopio la tensione di batteria mentre facciamo le operazioni. Diamo la 230 volt in ingresso. Tic qua nulla di apprezzabile. Si è alzata un pochino eh. Avete visto che la tensione si è alzata. Questo secondo me perché è probabilmente entrato in funzione il circuito di ricarica della batteria. In queste condizioni proviamo ad accendere. Lampeggia verde tutto tranquillo. Attendiamo l'evento. Lampeggia ancora qua sui led. Ok si è vista una perturbazione però vedete che la tensione è rimasta stabile. Andiamo a vedere di catturare il transitorio. Ho messo il trigger in modalità normal proprio sotto il livello di continua che adesso non c'è perché non è triggerato. Ripetiamo il self test. Siamo sempre in lampeggio. Attendiamo l'evento. Qualche secondo direi arriva. Eccolo qua. In single ho catturato l'evento in cui diamo la 230 ma questo non mi preoccupa. È un disturbino che arriva semplicemente quando si dà la tensione di rete in ingresso. Al momento dell'overload l'oscilloscopio ha catturato questo transitorio e vediamo che c'è un bel abbassamento della tensione di batteria con commutazioni molto veloci e qua invece abbiamo delle commutazioni più decise del ponte ad H. Riconosciamo questo tipo di forma d'onda tipica di un assorbimento induttivo. Infatti vedete che la tensione segue le commutazioni dei MOSFET verso il trasformatore. Ragionando sul comportamento che abbiamo visto con l'oscilloscopio. Mi viene da dire che quando l'UPS va in funzionamento da batteria e quindi si va a attivare il ponte ad H per pilotare il trasformatore qua abbiamo una sorta di cortocircuito. Cioè credo che i relais in particolare probabilmente possano non chiudere correttamente questo stadio di uscita rispetto all'ingresso. Se questo fosse vero ad esempio immaginiamo che ci sia un cortocircuito al secondario di questo trasformatore. Il ponte ad H vedrebbe un carico talmente elevato tale da riflettere sulla tensione e in effetti quello che noi vediamo degli assorbimenti molto molto importanti tali da riuscire ad abbassare questo punto positivo. Non scordiamoci che su questo punto ci sono ben due batterie e un condensatore per cui per abbatterlo così tanto la corrente che viene richiamata dal carico è parecchia. Quindi io sospetto un cortocircuito e considerato questo diagramma l'area da indagare direi che è quella dei relais. Quindi andiamo a vedere se questi relais in effetti forse possano essere magari bloccati o non commutare correttamente tale da far vedere in cortocircuito al nostro ponte ad H. Per validare l'ipotesi che ci sia un sovrassorbimento su questo trasformatore andiamo a piazzare uno shunt resistivo in serie su un ramo quindi andremo a leggere ai capi di questa resistenza la corrente e quindi cercheremo di capire se effettivamente è una corrente normale o una corrente troppo elevata causata magari da un problema a valle. Ho quindi preparato questo shunt fatto da due resistenze in parallelo da 180 millio 5 watt e quindi avremo 90 millio in serie la nostra corrente. Ho preparato i capi corda in modo che potremo inserirlo in serie su una delle due linee del primario del trasformatore. Considerato il taglio di potenza speriamo che sia sufficiente e io credo anche che poi intervenga la protezione quindi eventualmente una forte corrente durerà per poco tempo ma queste resistenze in cemento dovrebbero reggere la botta di energia. Prima di fare modifiche al circuito ricordiamoci sempre di staccare la batteria con questo morsetto e di scaricare la capacità. In questo caso il condensatore è in parallelo al ponte ad H per cui con una resistenza da 50 ohm di potenza si potrà togliere la carica residua semplicemente toccando qua fra le due alette. Infatti ricordiamoci che i punti di prelievo del ponte ad H sono fatti direttamente sulle alette quindi queste alette conduttive hanno i punti di accesso facili. Ricordiamoci poi sempre che c'è l'effetto rigenerativo dell'elettrolitico quindi una piccola tensione continua rimane sempre. Vedete adesso ho 4.2 volt se metto la resistenza vado a zero ma se la tolgo questa risale. Ho inserito il nostro shunt e piazziamo la sonda dell'oscilloscopio a cavallo di questa resistenza. Attenzione come sempre ricordiamo che l'oscilloscopio è a terra l'apparecchiatura è completamente isolata da terra infatti è dietro trasformatore di isolamento quindi non rischiamo nulla nel fare questo tipo di connessione. Non potrò usare il secondo canale per monitorare la batteria perché invece in quel caso il riferimento di massa ovviamente è un cortocircuito fra i due canali e non va bene mettere in corto questo punto che è il punto della una delle colonne del ponte ad h con ad esempio il meno della batteria perché si andrebbe a fare un cortocircuito sulla colonna del mosfet quindi un solo canale teniamo sott'occhio la corrente. Imposto l'oscilloscopio con una risoluzione verticale di 1 volt per quadretto quindi avremo al massimo più 5 volt meno 5 volt che sarebbero equivalenti rispetto al nostro shunt in corrente a circa 50 ampere di picco positivi e negativi. Infatti lo shunt è da 90 milliom per cui se scorressero 100 ampere avremo 9 volt massimo a cavallo della nostra resistenza. Come base temporale invece imposto 2 millisecondi a divisione perché credo che sia un fenomeno tutto sommato abbastanza lento e il trigger lo mettiamo poco sopra la soglia sul lato positivo quindi con trigger sul fronte positivo e ci mettiamo in modalità normal. Qua abbiamo il weight che lampeggia quindi il trigger è pronto e armato. Ho collegato le batterie forniamo la 230 volt vediamo se c'è un assorbimento. C'è stato un click ecco vedete questa è la corrente che sta transitando sul primario del trasformatore in condizioni di 230 volt ma non c'è l'innesco del nostro inverter. Il trigger cattura questa forma d'onda che ha un periodo con questo inviluppo di sembra proprio la 50 hertz vedete infatti sono 5 millisecondi di visione riconosciamo 20 millisecondi questo è il ciclo della 50 hertz in realtà è solo un inviluppo ogni tanto c'è qualche botta e se andiamo a vedere sono tanti piccoli picchi ma comunque tutto sommato abbastanza limitati sotto al volt. Spingo sul pannello di accensione per il self test soliti led che lampeggiano siamo in attesa del picco attenzione sta per arrivare l'overload vediamo cosa succede ecco la botta in corrente avete visto abbiamo avuto dei picchi che hanno superato allegramente i 50 ampere e adesso mi posso mettere in modalità single in modo che li catturiamo e poi magari riduco un po' la risoluzione verticale vado a posizionare il trigger alto questa volta sono a due volte di visione quindi mi posso mettere circa qui tanto quei picchi che abbiamo visto sicuramente triggerano e mi metto in modalità single in attesa dell'evento spingo nuovamente il bottone di self test lampeggio clic siamo in attesa attenzione ecco ancora fondo scala ecco la forma d'onda catturata in modalità single abbiamo superato gli 80 ampere di picco però la cosa interessante è che abbiamo picchi solo positivi a frequenza 50 hertz ma solo botte da una parte quindi non è una corrente alternata qua il ponte ad h sta andando solo da un lato adesso riduco ancora la scala verticale e cerco di infittire la scala così vediamo quanto dura questo fenomeno di secondo me cortocircuito ecco su un orizzonte temporale più lungo quello che accade vedete che abbiamo dei picchi a distanza 20 millisecondi quindi come il periodo della 50 hertz con delle ampiezze che sono tranquillamente superiore ai 150 ampere infatti qua abbiamo 15 volt di picco il nostro shunt è di 90 miliom quindi è ben sopra i 150 ampere quindi ne abbiamo una certa serie poi vedete che cala perché probabilmente anche tutto il sistema ne risente però il fenomeno dura qua è ancora attenuato probabilmente qua interviene una protezione e qua siamo a 50 millisecondi a divisione quindi vedete che sono sicuramente più di 10 divisioni quindi almeno mezzo secondo è ho riacquisito il fenomeno con 100 millisecondi a divisione quindi vedete che in realtà si il fenomeno si esaurisce dopo circa 600 millisecondi quindi qua probabilmente comincia ad intervenire la protezione e qua siamo tranquilli comunque durante questo periodo la quantità di energia che viene impiegata è veramente notevole correnti molto elevate molto impulsive andiamo a vedere infatti i livelli di corrente quindi andiamo a zoomare con la nostra memoria dell'oscilloscopio i picchi primi picchi vedete sono belli ampi quindi sono botte adesso andiamo a una risoluzione di 2 millisecondi di visione quindi sono delle botte di corrente che durano 5 millisecondi quindi quest'area è un bel po' di energia ripetuta ragioniamo sulla forma d'onda in corrente che abbiamo visto questa i con dei picchi di 150 ampere questo è il nostro ponte la nostra sonda di oscilloscopio è posizionata a cavallo di questa resistenza di shunt che è in serie al primario dunque quando sono accesi gli interruttori 1 e 4 per dare la polarità positiva la corrente scorre così va dentro al trasformatore e se ne torna dietro al meno e quindi è secondo questo disegno questa forma d'onda è positiva quindi abbiamo una forma d'onda positiva con grande corrente viceversa quando devono essere accesi gli interruttori 2 e 3 la forma d'onda dovrebbe essere negativa ma qua abbiamo 0 quindi sarei portato a pensare che questo o questo siano in cortocircuito infatti se supponiamo che fosse questo in cortocircuito quando si accende l'altro passa corrente tanta ma passa corrente quando tocca all'altra coppia ecco che questo mosfet vede questo cortocircuito e quindi abbiamo un passaggio di corrente in mane dal condensatore su questa colonna comunque non mi spiego in questo caso un così alto valore di corrente 150 ampere su questi due probabilmente qua sul secondario abbiamo qualcosa del genere quindi una sorta di cortocircuito sul secondario che fa sì che il trasformatore praticamente riflette questo cortocircuito dall'altra parte e tra l'altro il rumore che si sente avendo una forma d'onda in corrente in questa maniera che ha un valore medio molto importante sta facendo saturare il trasformatore in quanto non ha una componente media 0 ma ha un certo valore la componente continua fa saturare il nucleo del trasformatore e questo spiega anche dei valori di corrente così elevati quindi direi che la prossima operazione da fare è controllare le giunzioni di questi mosfet almeno dei diodi che sono in antiparallelo su ogni gamba ricordiamo che questi diodi sono fondamentali perché con un carico induttivo come quello di un trasformatore permettono di fare circolare la corrente quando l'interruttore è spento infatti se la corrente quando circola in questo senso magnetizza il trasformatore in questa maniera il trasformatore richiama corrente così e quindi quando loro si spengono l'unico modo che si ha per ottenere corrente è tramite i diodi di ricircolo quindi la corrente che viene forzata da qui viene richiamata dal negativo diodo e poi da quest'altra parte c'è l'altro diodo che la restituisce al positivo e così si completa e si può reggere questo carico induttivo andiamo ora a testare le giunzioni degli otto mosfet quindi il source verso di noi il drain centrale quindi andiamo a pezzicare con il multimetro ok questo è buono terminale centrale e source ok quindi questa gamba è buona vediamo in quest'altra ok come sospettavo i mosfet sono buoni infatti non mi sarei spiegato quella corrente fatta in quel modo lì indaghiamo ora sulla parte dei relai quindi potremmo fare una prima prova scollegando il secondario del trasformatore e accendendo il sistema probabilmente non funziona perché non avendo il ritorno di questi secondari non si mette neanche a partire ma facciamo comunque questo esperimento perché si tratta semplicemente di alzare questo connettore questo è il connettore del secondario del trasformatore quindi lo scollego e proviamo ad accendere la batteria diamo a 230 tac facciamo il self test ecco infatti come immaginavo vedete che è andato tutto in allarme perché non abbiamo il ritorno del trasformatore quindi lui sente l'assenza del trasformatore adesso che abbiamo sezionato il trasformatore possiamo andare a vedere i contatti dei relai anche perché se l'avevamo inserito avremmo visto dei corti infatti ricordatevi che la resistenza che si vede sull'avvolgimento è bassissima parliamo di meno di due volt quindi sarebbe molto difficile distinguere un contatto chiuso da un contatto aperto con questo aperto invece vedremo la posizione normalmente chiusa normalmente aperta di questi relai questi tre relai creano quindi una rete di commutazione che va a selezionare il secondario giusto sono pilotati da dei transistor che si trovano proprio qui davanti li vedete questo questo quell'altro ora andiamo a vedere se i transistor sono buoni con il multimetro in modalità prova aggiunzione vediamo prima questo transistor 599 l'aggiunzione ok andiamo su questo sotto ai 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 qua abbiamo un corto fra due pin del transistor vediamo quello sotto ai ai questi due transistor hanno un corto allora secondo me potrebbe essere anche dovuto a impedenze in parallelo comunque adesso siamo obbligati a disaldarlo per sapere quindi andiamo a disaldare prima questo transistor quello centrale si tratta di un transistor mosfet snf 10 un power mesh in d2 pack allora la fra drain e source quindi fra il 3 e il 2 dovremmo vedere il diodo quindi ci mettiamo con il positivo sul 3 e qua sul 2 e questo è il corto però potrebbe essere acceso il mosfet perché ricordiamoci che lui accumula la carica quindi prima lo dobbiamo scaricare e andiamo a mettere quindi una tensione negativa fra 1 e 3 in modo che così il multimetro scarica il gate e adesso ripetiamo la misura quindi fra 3 e 2 niente questo è buono semplicemente era acceso solo che non avevo visto che era un mosfet pensavo fosse addirittura un bjt e quindi questo transistor è buono perché avete visto che una volta spento con il multimetro tolta la capa la carica dal gate abbiamo visto correttamente il diodo in antiparallelo cioè quello che si trova fra il terminale di source e il terminale di drain se poi andiamo a vedere il gate col negativo rispetto al drain è isolato quindi ok e il gate rispetto al source è isolato quindi questo secondo me è buono dopo aver tolto la carica fra gate e source anche questo mosfet risulta buono quindi comunque buona norma ipotizzare che sia un mosfet e in quel caso cortocircuitare i terminali in modo che non ci sia carica fra gate e source e poi fare il test dopo aver pulito bene le pad e i piedini con la pinzetta ho calato dall'alto quel transistor perché vedete che c'è pochissimo spazio con le dita sicuramente non ci si arriva ma con le pinzette si lo vado a risaldare bene se siete arrivati a questo punto del video complimenti perché è un video lungo complesso e anche un po pesante facciamo il punto della situazione l'ups entra in una modalità di anomalia appena prova a fare entrare l'inverter ma le batterie sono buone infatti abbiamo visto che la tensione cala un pochino ma c'è un sovrassorbimento di svariate decine di ampere che crea l'allarme di overload abbiamo verificato i mosfet tutto il ponte ad h con il multimetro e le giunzioni ci sembrano buone quindi la parte di potenza sembra essere ok però avviene qualcosa durante questo meccanismo di cambio bisogna capire come mai la corrente che abbiamo visto è positiva e invece di essere alternata e questo spiegherebbe una saturazione del trasformatore di uscita il quale poi ovviamente richiama un sacco di corrente se va in saturazione quindi nella prossima parte andremo ad indagare la parte dei relais che è il circuito di commutazione che permette lo switch tra ingresso a 230 e inverter per vedere che non ci sia qualche difficoltà a quel livello come sempre se il video vi è piaciuto o vi è stato utile un bel pollice in su io vi saluto ciao e alla prossima iscriviti al canale